Musica Questa mattina i carabinieri della stazione di Ragusa Ibla hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa nei confronti di due fratelli, un 37enne e un 28enne, residenti tra il capologo e le aree rurali della più nota frazione Iblea. I fatti risalgono ai primi giorni dello scorso novembre, esasperato da continue irruzioni nei propri terreni, per l'ennesima volta un vicino litiga animatamente con i due fratelli che al culmine dello scontro attingono con alcuni fendenti il ventre della vittima, la gamba ed una mano e poi non paghi danneggiano gli pneumatici della sua autovettura e proseguono con pesanti minacce nei suoi confronti anche attraverso l'utilizzo di un'arma detenuta dalla compagna di uno dei due. La vittima, giunta in ospedale con gravi ferite che gli avevano provocato un cospicuo sanguinamento, è stato trattenuto al Giovanni Paolo II di Ragusa per diversi giorni, sino a quando, una volta fuori pericolo, è stato in grado di fornire agli investigatori tutti i dettagli dell'accaduto, circostanziando i fatti in modo da permettere un immediato avvio delle indagini promosse dai militari dell'arma sotto la direzione della Procura della Repubblica per i fratelli. Quindi è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari, trovando a rispondere davanti ai giudici dei reati di lesioni personali gravissime, danneggiamente minacce aggravate dall'uso delle armi. Anci Ragusa condanna fermamente il definanziamento da parte del Governo nazionale della tratta autostradale Modica Scigli e chiede un immediato scatto di orgoglio all'intera deputazione nazionale per garantire lo sviluppo infrastrutturale del sud-est Sicilia. Questa è la dichiarazione del Presidente Giorgio Firincelli. Esprimiamo profonda delusione per la decisione del Governo nazionale di tagliare i fondi destinati alla realizzazione del trunco autostradale Modica Scigli per un importo totale di 350 milioni di euro, al netto di 150 milioni per l'adeguamento prezzi. Questo definanziamento rappresenta un duro colpo per il territorio ragusano e mette a rischio lo sviluppo infrastrutturale e socio-economico non solo di questa parte dell'isola ma dell'intera regione. Il tratta autostradale Modica Scigli è ritenuto fondamentale per migliorare la viabilità e la connettività della Val di Noto, promuovendo la crescita economica, l'attrattività turistica e la qualità della vita dei cittadini. Il suo definitivo arresto avrà gravi conseguenze sulla mobilità, sull'accessibilità e sull'appeal territoriale, compromettendone progetti di sviluppo e investimenti futuri. Desideriamo ricordare inoltre, continua il Presidente Firincelli, che esiste già il progetto esecutivo per la successiva tratta da Scigli e Ragusa, datato dicembre 2011, che prevedeva costi per un totale di 609 milioni di euro, che leviteranno fino a quasi 900 milioni a causa dell'adeguamento dei prezzi e dei preziari che si sono succeduti da allora, solamente 13 anni. E quindi la mancata realizzazione della modica Scigli mette una inaccettabile pietra tombale sul finanziamento di questa ulteriore estensione autostradale, apponendo così la parola fine all'intero piano di sviluppo infrastrutturale fino a Gela. Facciamo quindi appello alla deputazione siciliana, sia di maggioranza che di opposizione, di operare il necessario pressing sul governo al fine di indurlo, a riconsiderare urgentemente questa decisione di garantirne un'immediata rettifica per ripristinare i fondi necessari per la realizzazione del tronco modica Scigli e per assicurare un futuro finanziamento per la tratta da Scigli e Ragusa a Gela e consentirci il diritto di poter guardare anche verso l'occidente siciliano. Dopo il secondo corteo, nel giro di pochissimi giorni, avviata a Modiche che ha attraversato le vie principali della città, gli agricoltori, in presidio permanente nella zona artigianale modica ispica, torneranno in piazza. Saranno infatti domenica mattina con i propri trattori lungo corso Umberto, con una rappresentanza per parlare ai cittadini, spiegando i motivi della protesta e portando in piazza i prodotti da mostrare alle persone per sottolineare l'importanza dell'agricoltura nella vita quotidiana di ciascuno. La protesta quindi non si interrompe e mira, così come accade in altre città della provincia, della Sicilia e del resto d'Italia, ad ottenere risposte per un comparto in piena crisi e che spera questa volta in un'inversione di tendenza decisa e soprattutto definitiva. Ancora disagi su disagi al condominio dell'846 Treppiedi Nord, nuovo intervento di Salvatore Terranova, segretario della Camera del Lavoro di Modica, sul tema, a distanza di due mesi, il grave problema del condominio dell'846 Treppiedi Nord, dove i due ascensori non funzionavano, causando ulteriori e pesanti disagi ai condomini in condizioni di vulnerabilità e di malattia, non è stato risolto con l'intervento dello IACP1 degli ascensori, prosegue Terranova, dopo essere stato sottoposto ad una lunghissima dieci giorni di lavoro, opera di manutenzione straordinaria, funziona a singhiozzo, al massimo due giorni e poi si blocca, o perché vanno in tilt le componenti elettrico, o perché, come si verifica da qualche giorno, la porta d'ingresso dell'ascensore non si chiude. Quest'ultima anomalia si ripresenta da almeno 15 giorni, tant'è che il tecnico ascensorista è dovuto intervenire già tre volte in questi ultimi due giorni. Questo problema si è già verificato per ben due volte, viene sistemato e tac, il giorno dopo, di nuovo punte a cavo. I condomini, sottolinea il segretario della Camera del Lavoro di Modica, quelli in stato di vera difficoltà fisica o psicofisica, devono far ricorsa all'intervento dei pompieri per essere tradotti nella loro abitazione. È immaginabile che si distolgano i pompieri dalle loro importantissime funzioni per supplire a carenze in capo ad altra istituzione? È giustificabile una situazione del genere? I condomini non possono che ringraziare gli operatori dei pompieri per il grande senso di responsabilità che dimostrano sempre nei confronti dei più deboli, ma bisogna mettere una volta per tutte un punto a questo problema degli ascensori malfunzionanti. L'altro ascensore è ancora in attesa di essere rimesso in funzione. Dopo due mesi, cioè da quando gli ha assunto l'impegno di ripristinare quest'altro ascensore, ancora nulla, nessun intervento. Sarebbe indispensabile rimetterlo subito in funzione perché un solo ascensore non può sostenere i movimenti di 39 famiglie. Chissà quando l'Istituto Bontassu ha riterrato di dover celermente dare anche questa risposta a queste famiglie. Qui la situazione ormai è chiara. Nessuno ha interesse a mettere in condizioni di normalità i residenti in questo lotto. Nessuno. Abbiamo compulsato più e più volte lo IACV, il Comune, ma alla luce delle risultanze non sembra esservi da parte di questi enti interesse reale a farsi carico di un disagio che tocca gli aspetti più sociali e democratici dell'essere cittadini di una comunità di una nazione civile. Aspettiamo fin dalla prossima settimana e se il problema denunciato persisterà, conclude Terra Nova, mobiliteremo tutti i condomini e li accompagneremo una di queste mattine sia al Comune che allo IACV per capire come e cosa intendono fare. Adesso basta, adesso si faccia qualcosa. Abbiamo massimo rispetto di tutti, ma non possiamo continuare ad assistere in ermi a questo stilicidio di notizie riportate nell'ultima settimana quasi quotidianamente sul nostro centro storico. Prima l'accoltellamento in via Roma, poi la violenza sessuale ai danni di una cittadina straniera che stava rincasando da scuola. Dobbiamo convincerci che non è normale quello che sta accadendo, non è normale nella nostra Ragusa, dove evidentemente alcuni fenomeni stanno prendendo piede sino a diventare sempre più presenti e non accetteremo mai che questa possa diventare la normalità. E il consigliere comunale del PD Mario Chiamola ad affermarlo, dopo aver raccolto anche la preoccupazione dei sacerdoti che negli ultimi giorni hanno visto violare gli edifici di culto in centro così come in periferia. In alcuni casi, per fortuna, con Tina Chiavola, grazie ai sistemi di videosorveglianza è stato possibile appurare che cosa era accaduto e però da qui a risalire gli autori ce ne correreste il danno e il senso di impunità che purtroppo ti assale quando rimani vittima di episodi del genere. Abbiamo anche dovuto fare i conti nelle ultime settimane con i casi di scippo nella zona di Piazza Cappuccini piuttosto che nell'area della Chiesa dell'Ecciomo. Sembra quasi che la microcriminalità stia prendendo coraggio. Ed ecco, è proprio quello che bisogna evitare. Sono necessari dispositivi di monitoraggio per garantire sicurezza ancora più efficaci di quelli già attivati. È indispensabile che la percezione di questa stessa sicurezza minata tra l'altro da sempre più presenza sul fronte dello spaccio in alcune zone critiche del centro storico possa tornare alta così come accadeva una volta. Ragusa non può subire tutto questo. Si è costituito nel distretto sociosanitario di Modica il gruppo locale del Comitato Civico articolo 32 per la difesa dei principi costituzionali in materia di salute e sanità. Anche in questo distretto un gruppo di cittadini, sottolinea il Comitato, che ritengono la sanità pubblica un bene comune da preservare e tutelare, hanno deciso di organizzarsi per contrastare i gravi e continui disservizi a partire dalle liste di attesa sempre più lunghe e non più in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni. Hai pronto soccorso dove il personale è costretto a lavorare in condizioni di grave disagio con le conseguenti lunghissime stressanti attese in sale spesso carenti anche degli elementi essenziali dell'accoglienza. A questi annosi di servizi se ne sono aggiunti di nuovi, le criticità nei presidi sanitari di Pozzallo e la carenza di medici di famiglia Scigli. Occorre sottolineare purtroppo, prosegue il Comitato, che presto altri disastri seguiranno in conseguenza delle norme sull'autonomia differenziata voluta dal governo attuale, che aggraveranno la qualità dei servizi sanitari nel mezzogiorno. Anche per quanto riguarda le segnalazioni degli servizi nel distretto sociosanitario di Modica, che comprende anche i comuni di Scigli, Ispica e Pozzallo, gli utenti potranno inviare messaggi di testo tramite sms o whatsapp al numero 379 29 84 907 oppure per email a dirittisanitaisalute.ragusa.gmail.com per essere contattati dai volontari del Comitato. L'Assessorato alla Sanità e allo Sviluppo di Comunità del Comune di Ragusa, l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Ragusa e l'Azienda Sanitaria Provinciale organizzano un corso di difesa personale rivolto a medici e operatori sanitari. Il corso, intitolato Sentiamoci più sicuri, è voluto per fronteggiare il moltiplicarsi delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari durante l'espletamento del loro servizio da parte di utenti violenti, avrà la durata di tre mesi e mira a distruire il personale sanitario alla gestione del pericolo nelle strutture medico-ospedaliere, alla gestione dello spazio vitale e dell'atteggiamento da tenere in caso di comportamenti aggressivi nei loro confronti. Il corso è rivolto a 30 partecipanti e inizierà il 23 febbraio per concludersi il 24 maggio 2024 e si svolgerà tutti i venerdì dalle 19.30 alle 20.30. Il numero telefonico 328 90 29 889 è disponibile per ottenere maggiori informazioni e per prenotare la partecipazione. Perché città come Torino, Parma e Matera, per fare solo alcuni esempi, hanno raggiunto obiettivi di lungo periodo significativi e Ragusa non può ambire a sviluppare percorsi simili coadiuvati dallo stesso team che ha lavorato per queste città, si vuole immaginare la Ragusa del futuro tramite un piano strategico ventennale da costruire insieme al territorio e alla cittadinanza. La prima tappa di un più lungo cammino partecipato volta a individuare una visione condivisa per Ragusa 2043, data simbolica in cui ricadranno i 350 anni dal terremoto, si terrà sabato 17 febbraio nella sede della ricca IT in via Giovanni Leone, ex Villa di Pasquale, azienda esempio di una filosofia generativa per il territorio. La prima sessione durerà dalle 9.30 alle 14 e coinvolgerà oltre i rappresentanti di istituzioni, enti e portatori di interesse, 100 cittadini che vorranno iscriversi alternando momenti in plenaria e gruppi di discussione facilitati da figure esperte. Si avvierà una riflessione collettiva sulla costruzione di una visione comune, il futuro desiderabile della città. Il pomeriggio dalle 16 alle 19 è prevista una sessione aggiuntiva che a partire dal futuro desiderabile avrà l'obiettivo di definire il futuro possibile, individuando le linee strategiche in impostazione di un piano di azione. Affinché questa attività produca risultati concreti e sostenibili è fondamentale la partecipazione degli attori istituzionali e dei portatori di interessi e conoscenze che possono contribuire a definire un piano realistico. Anche questa sessione sarà aperta ai cittadini e alle cittadine che vorranno partecipare. In fase di iscrizione è necessario indicare se si desidera partecipare solo al mattino o anche al pomeriggio. Non è possibile partecipare alla sessione pomeriggiana senza aver preso parte alle attività della mattina.